All'indomani dell'annuncio fatto da Settimio Cantone sul via imminente a sondaggi geologici finalizzati alla captazione del sottosuolo di nuove risorse idriche sul territorio di Sciacca, continua ad essere la situazione finanziaria di AICA, riduce da due bilanci d'esercizio e con una perdita complessiva di oltre 4 milioni di euro, a preoccupare i sindaci. La commissione bilancio del Consiglio Comunale di Sciacca, preseduta da Filippo Bellanca, ieri ha chiesto chiarimenti, ma la situazione dei conti è in miglioramento, assicura Alfonso Provvidenza, presidente dell'Assemblea dei Sindaci, che sovrintende l'azione di AICA. Sì, dovrebbe esserci un'inversione di tendenza dopo i primi due anni che hanno causato effettivamente due perdite importanti, soprattutto nel 2022, causate in modo particolare dal rincaro dell'energia. Quest'anno gli uffici mi hanno rappresentato che ci sono buone speranze di chiudere in pareggio il risultato economico del 2023. Ci crediamo molto, ci speriamo, naturalmente adesso ci sono le varie scritture di assestamento di bilancio e quindi siamo fiduciosi di poter avere un pareggio di bilancio per il 2023. Ci auguriamo che il Consiglio di amministrazione possa arrivare a questa determinazione. Rimane da risolvere la questione dei comuni inadempienti, vicenda questa che in una delle ultime sedute consigliari ha visto Fabio Termine criticare apertamente i suoi colleghi sindaci, dicendo testualmente c'è qualcuno che pensa di essere furbo, mentre chi fa il suo dovere viene considerato uno stupido. Allo scopo di sostenere l'avviamento dell'azienda consortile, nel 2021 la regione siciliana stanziò un prestito ponte di 10 milioni di euro che i comuni, ciascuno per la propria parte, avrebbero dovuto girare all'azienda. Non tutti gli enti però lo hanno ancora fatto e all'interno della società si è creato uno scontro. I comuni più importanti che, secondo lo stesso Presidente Provvidenza, con il loro atteggiamento mettono in difficoltà il funzionamento stesso di AICA, sono quelli di Licata e di Palma di Montechiaro. Il primo non ha ancora versato la quota di proprie competenze di capitale sociale, mentre Palma di Montechiaro non ha nemmeno consegnato le proprie reti idriche ad AICA. Nel corso di una riunione con i sindaci, l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro ha invitato chi non lo ha ancora fatto a mettersi in regola, facendo notare che le conseguenze di questi inadempimenti sono a carico dei cittadini. Provvidenza rinnova il suo appello ai sindaci interessati. Tutti i comuni devono capire che fanno parte di AICA, non possono continuare a chiedere interventi di manutenzione se poi non partecipano attivamente alla vita aziendale, a partire appunto dall'intervento che ci ha messo a disposizione la Regione, che è quella dell'erogazione straordinaria. Il problema più importante è quello della liquidità. L'alquidità può essere temporaneamente risolto con il prestito della Regione. È chiaro che non è una soluzione strutturale, ma il prestito è stato pensato appunto come una soluzione ponte, come una soluzione di tipo straordinario e non certo di tipo ordinario. Quindi mi auguro che i sindaci e i consigli comunali, perché non dimentichiamo che molte delibere sono bloccate nei consigli comunali, possano seguire l'esempio virtuoso di tutti gli altri comuni che hanno già provveduto a porre n'essere gli adempimenti amministrativi occorrenti. Ieri nel corso del Vertice il Comune, il direttore del settore finanzi e tributi Filippo Carlino, ha fatto notare che gli inadempimenti dei comuni soci di AICA non riguardano solo una scelta politica, ma rilevano anche dal punto di vista della responsabilità degli stessi dirigenti comunali, perché se per fare un esempio una fattura non viene pagata, in assenza di specifica contestazione, oltre agli interessi, scatta anche il possibile danno erariale e probabilmente sarebbe meglio che il LAT informasse di questo stato di cose la stessa Corte dei Conti. A proposito di bollette, il Comune di Sciacca ha ricevuto una fattura di circa 250 mila euro, sia per consumi degli edifici comunali, sia soprattutto per l'utilizzo dell'acqua erogata dai cinque bocchettoni situati alla SITAS. Solo per uno di questi bocchettoni la responsabilità del Comune si tratta dell'acqua per autobotti di vigili del fuoco, corpo forestale, polizia penitenziaria e così via, mentre gli altri quattro sono quelli da cui prelevano acqua le società private fornitrici attraverso autobotti. Il Comune si rivarrà su di loro per la quota parte delle somme dovute ad Aica attraverso questa fattura, finita anche al centro di un accordo tra l'amministrazione e la società che gestisce le risorse idriche. E tornando all'annuncio delle prospezioni nel sottosuolo di Sciacca alla ricerca di altra acqua, si conferma come questo territorio si è stato baciato dalla fortuna in termini di disponibilità idrica, una fortuna che per estensione bacia evidentemente anche il resto della provincia di Agrigento, dove l'acqua di Sciacca viene trasferita periodicamente in ragione di un principio solidaristico contenuto nella norma. Principio solidaristico che talvolta tuttavia si ritorce contro il territorio saccense che spesso si ritrova con i rubinetti e le cisterne all'asciutto.